Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? L'inizio è quello classico delle fiabe, ma Biancaneve, il cacciatore, prende la favola che conosciamo e la trasforma in un racconto gotico, in cui la matrigna ha un'aura shakespeariana ed il volto bellissimo di Charlize Theron. Questo mondo corrotto avrà la regina che merita. Cara, cara, Biancaneve, dammi il tuo cuore. È lei la vera protagonista del film che rivisita tutti i miti della favola. Biancaneve, Kristen Stewart, è una giovane guerriera, usa la spada e combatte a cavallo e a darle il bacio salvifico dal sortilegio non è un principe, ma il cacciatore, con i bicipiti di Chris Hemsworth, ovvero Thor. I sette nani sono briganti, pronti a redimersi. Insomma, niente è scontato in uno dei film più divertenti e stupefacenti dell'estate. Che vengano da me.